Ben tornati alla rassegna stampa del mattino, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, siete sul canale 17, sono le 7 e siamo in diretta per sfogliare i giornali, vedere le previsioni del tempo, vedere anche il santo del giorno, lo facciamo subito, oggi è sabato 21 novembre, la Chiesa celebra la presentazione della Beata Vergine Maria. Il sole sorgerà alle 7 e un quarto, tramonterà questo pomeriggio alle 16 e 39. Oggi avremo una giornata ancora con vento forte lungo la fascia costiera e sui rilievi, ma non ci saranno precipitazioni, a parte qualche residua, precipitazione nottetempo al primo mattino, ma soprattutto in montagna nella parte meridionale della regione, per domani invece cielo sereno poco nuvoloso, così come lunedì e il resto della settimana. La zona gialla, la zona gialla non è così lontana, titolo del Carlino di Pesaro questa mattina, sono parole del presidente Acquaroli che vede rosa. A proposito di colori, se l'indice di contagio prosegue basso, dice Acquaroli, potremmo essere promossi. Intanto il caso drammatico di Urbino, emergenza al pronto soccorso, mancano i medici, turni sguarniti, il primario chiede in vano i rinforzi. A centropagina la foto di Sfere Basta, il rapper con la targa della piazza di Cinisello Balsamo, siamo a Milano, vicino Milano, a lui dedicata. Oltraggio al dolore, il titolo, piazza dedicata al rapper della tragedia di Corinaldo, la rabbia dei parenti. E poi la mossa di Ricci, il comune restituisce la Tosap, bar e ristoranti un po' respirano. L'annuncio dell'assessore, sempre pesarese, ex AMGA, bonifica sì, ma sul parco cala il sipario. Di taglio basso, pioggia e vento sferzano tutta la costa, alberi abbattuti, chioschetto prende fuoco e al mare schiuma che sembra neve. La donna condannata a due mesi vestiva, o meglio, picchia la figlia perché vestiva troppo all'occidentale, abuso di metodi di correzione, una madre che è finita nei guai. La difesa dice, la sua difesa dice in Pakistan, i genitori fanno così. E poi l'Arezzo, quindi lo sport, per quanto riguarda il Fano, l'Arezzo chiede rinvio, salta lo spareggio per la salvezza, il basket, VL slitta al dopocena, casi positivi permettendo. Andiamo a vedere il Corriere Adriatico. Fano, focolaio in cardiologia, titolo d'apertura, paziente contagia, sette ricoverati all'ingresso del Santa Croce, no Covid, era risultato negativo al tampone. Apre il quinto modulo invece al Covid Hospital di Civitanova, l'indice RT scende a 1,17. L'assessore Salta Martini, non mi illudo, a centro pagina il commercio pronto a ripartire, che per l'obiettivo chiaramente è il 3 di dicembre. Per l'ex Tribunale di Pesero scatta la denuncia firmata a Cogespar, e poi Ceriscioli che ora fa il tifo, la manifestazione promuraglia, prevista per oggi pomeriggio alle 3, è giusta. E da Fano, sanità e ospedale, 10 domande sui punti più critici. Sotto, alberi abbattuti dal vento, il mare si mangia l'arenile. Andiamo allora a vedere le pagine interne, siamo sul Corriere Adriatico. RT ha 1,17, minimo sollievo, ma al Covid Hospital apre il quinto modulo. Aggiunti 18 posti in medicina d'urgenza a Civitanova, poi si andrà a Camerino. Salta Martini respira, piccoli segnali e meno pressione sui pronto soccorso. Aggiustato il piano pandemico garantendo più letti ai ricoverati. L'assessore dice che dobbiamo continuare a erogare le terapie ordinarie. Scienziati ottimisti, dal Carlino, curva dei contagi in calo. Lombardia verso l'uscita dalla zona rossa, insieme al Piemonte, dovrebbe essere tra le prime regioni a tornare a Arancione fra una settimana. Massime restrizioni invece in Abruzzo. Boom di guariti e dimessi, così si piegano le curve dei ricoveri e dei contagi attivi. Per la prima volta, dal mese di agosto, i nuovi positivi diminuiscono da una settimana all'altra. In ospedale ci sono 623 pazienti, di cui 81 in terapia intensiva, in 74 al pronto soccorso. Purtroppo non calano i decessi. Ieri altre 7 vittime del Covid nelle Marche. Focolaio in cardiologia a Fano, paziente contagia 7 ricoverati. L'episodio al Santa Croce, dichiarato dalla direzione Marche Nord, presidio no Covid. All'ingresso questo paziente, che poi ha infettato gli altri, era risultato però negativo al tampone. Sapete che uno fa il tampone oggi, ma poi se è in incubazione, chiaramente non viene rilevato. E così è successo all'ospedale Santa Croce. Però tutti gli altri, alla fine, in sintesi, stanno bene. Sono stati dimessi, sono stati trasferiti una volta che è stata accertata la positività al Covid di San Salvatore di Pesaro. Non tutti, perché alcuni di loro sono stati dimessi. Nessuno, dopo aver ricevuto le cure necessarie, ha riportato conseguenze patologiche rilevanti, al punto tale da richiedere un ricovero. E quindi questi sono tornati a casa. Intanto dirottati sei operatori a Civitanova. I sindacati di, dicono, Urbino resta così sguarnita. Le Marche sono già in fermento, invece, l'obiettivo è riaprire il 3 di dicembre. Summit, governatore associazione di categoria, per far ripartire i consumi e frenare il virus. Con la conferma dell'indice RT a 1,17, la Regione può pensare di scendere sotto la soglia che consentirà la ripartenza dei centri commerciali, dei negozi ad orario prolungato e anche lo slittamento di due ore del coprifuoco. Tutto per non perdere il Natale. E poi, se l'indice RT prosegue così, titolo del Carlino di oggi, presto torniamo in zona gialla. Il Presidente Acquaroli è ottimista. Il valore che indica il tasso di contagiosità adesso è intorno all'1,17. Se manteniamo, dice Acquaroli, questi numeri, possiamo sperare di essere dunque promossi. I segnali sono confortanti. Chiaramente poi bisogna continuare a fare, come si dice, i bravi, perché altrimenti dopo Natale c'è l'epifania e non vorremmo tornare di nuovo tutti in prigionia. Ho fatto pure la rima. In arrivo la valanga dei test rapidi e i drive-in devono attrezzarsi. Ora, a Urbino e Pesaro si monteranno nuove tensostrutture complete di box riscaldato e rete Wi-Fi. L'importante è smaltire le diagnosi collegate alle scuole. Negli ultimi sei giorni 45 classi sono finite in quarantena. Marche Nord si doterà di un nuovo macchinario che si chiama Thermo Fisher per aumentare anche la capacità dei testing. E quel pronto soccorso invece senza medici, colleghi del 118, noi non c'è andiamo. Urbino, il primario Mezzolani, dice garantiamo il servizio con una cooperativa di pensionati e altre persone. La replica di Moretti, sindacato Cimo, dice l'Asur non cerchi scorciatoie, le ambulanze non si toccano, assuma del personale. Quattro infermieri precettati invece per Civitanova, sempre da Urbino, sindacati in allerta, dovranno prestare servizio per 30 giorni. Covid, modello sanitario in crisi, insistiamo sui danni generati. Da Carnaroli a Benini, da Mattioli a Orazzi, 10 taglienti domande sull'organizzazione territoriale e ospedaliera. Questo lo troverete sul Corriere Adriatico di oggi. Giusto manifestare per l'ospedale una mozione? Non determina nulla. Ceriscioli sull'appuntamento di oggi a Muraglia, dice per la manifestazione lanciata dal sindaco Matteo Ricci, e dunque è confermato oggi dalle 15 alle 16 il presidio davanti all'ospedale di Muraglia, con distanziamento, ovviamente, mascherine, eccetera, eccetera, dice il sindaco promotore di questa iniziativa di protesta, alla quale parteciperanno anche il presidente della provincia, Paolini, il sindaco di Valefoglio-Occhielli, e l'assessore ai servizi sociali di Fano, Tinti, che fa seguito alla risoluzione e alla successiva mozione approvata in Consiglio regionale, che hanno bloccato l'ospedale unico Marche Nord a Muraglia e il Project Financing. Dunque avete capito che il sindaco Seri, e lo vedremo tra poco, non ci andrà. Alberi schiantati, invece qui passiamo alla cronaca di ieri con il maltempo che ha sferzato la costa e non solo marchigiana. Alberi schiantati, il vento sferza la costa, numerosi interventi dei pompieri, a Pesaro si incendia un chiosco, lo vedete in questa fotografia, vicino al Genica. A Fano, invece, i pompieri devono tagliare diverse piante che sono cadute sul manto stradale. La forza delle onde crea un manto cremoso sul litorale, creando poi anche un effetto scenografico bello per alcuni, inquietante per altri. Non è materiale inquinante comunque. Grosse piante abbattute, andiamo sul Corriere, grosse piante abbattute dal vento, un'emergenza da Fano Marotta, lavoro straordinario per i vigili del fuoco e la mareggiata erode l'arenile. Interventi anche a Carignano, Cerbara e Gimarra. Vari danni, nessuno però è rimasto ferito. Sugli stalli blu, le strisce blu, i parcheggi si ha resa gratuita la prima mezz'ora di sosta. Il Circo Nuova Fano così vuole incentivare la fruizione del centro storico. E poi la cronaca con la donna che picchiava la figlia perché voleva vestire all'occidentale. Picchia figlia a dodicenne, condannata a Pakistana. La donna è stata denunciata dal responsabile di un centro di accoglienza. Ieri c'è stato il processo. Si è difesa dicendo che non la obbediva. Non le obbediva. Da Fano invece ancora, Corriere Adriatico. Covid, comune in aiuto delle famiglie, destinati 300 mila euro di contributi. Il bando per i beneficiari sarà concordato con i sindacati. Il sindaco dice noi senza altri sostegni dallo Stato. Insomma abbiamo fatto un po' tutto da soli. I fondi incrementano i 30 mila euro stanziati dalla Fondazione Carifano con passamano. Sul biodigestore invece torna oggi sul giornale Davide Del Vecchio che a nome dell'Udc provinciale contesta la realizzazione del digestore anaerobico. Del Vecchio dice che non può programmarlo il privato. Chiede l'intervento di Acquaroli e ha dei dubbi sul ruolo di Aset. Eccolo qua. Se ridiserta il presidio per l'ospedale unico sulla pagina di Fano del Carlino, ma a Muraglia parteciperanno gli amministratori. E i vertici dei democratici. Intanto da sinistra spuntano una lettera con 10 domande sulla sanità fanese. L'invito al sindaco, auspici, Benini, Carnaroli, Mattioli e Orazzi insistono. Non restare, dicono, con il cerino in mano. Aiuti alle famiglie. 300 mila euro in buoni. Questo è a Fano. L'assessore Tinti. Saranno privilegiati quei nuclei dove uno o entrambi i genitori sono rimasti senza reddito o che hanno lavori saltuari. Va detto che Fano non ha avuto il milione di euro che invece ha ricevuto il Comune di Pesero, per il quale poi sono stati distribuiti buoni con tanto di tagliando nelle case. Qui tutto attraverso la tessera sanitaria. Se avete perso il servizio di ieri vi invito a riguardarlo sul nostro telegiornale, ancora in replica oggi, nella giornata di oggi. Oppure sul nostro sito internet dove spieghiamo un po' come avviene questa distribuzione di 300 mila euro che non arrivano da enti superiori, quindi dallo Stato, dalla Regione, eccetera. Ma sono stati trovati nelle casse, nel cassetto del Comune di Fano. La pandemia mette in crisi invece, sempre restando in città, mette in crisi i circoli anziani. Stiamo perdendo i soci. Il grido d'allarme lanciato per difendere i punti di aggregazione fondamentali per la città e i suoi abitanti. Giornata del divertimento in sicurezza, invece il Comune di Fano chiede di istituirla perché quanto accaduto a Corinaldo non debba più ripetersi. Questo è il senso della giornata regionale del divertimento in sicurezza di cui il Comune di Fano chiederà l'istituzione alla Regione per la giornata dell'8 dicembre. Mentre sono ancora in fase di definizione le iniziative che si potranno organizzare in memoria delle vittime di Corinaldo. Una piazza invece, qui andiamo a vedere il rovescio della medaglia a chi in realtà non gli interessa nulla di quello che è successo a Corinaldo. Siamo a Cinisello Balsamo, è un comune dell'Interland milanese che ha deciso di conferire, di nominare una piazza, tra l'altro anche non proprio una piazzetta, una piazza, una piazza per sfere basta che il rapper atteso quella sera maledetta a Corinaldo che poi non arrivò mai. Il titolo è altro che modello per i nostri giovani, l'intitolazione scatena la rabbia dei familiari dei morti di Corinaldo, poteva informarsi prima sulle condizioni della discoteca dove avrebbe dovuto esibirsi. E poi la DigiVapor, di cui abbiamo parlato ieri, siamo innocenti, è un equivoco. Il legale del titolare della ditta di sanificazione sequestrata per intestazione fittizia dice Emolo trovava solo i clienti e non è un parente. La ditta è ancora aperta, i sigilli solo virtuali all'azienda che continua dunque a lavorare ed è gestita da un custode giudiziario. A Vallefoglia invece scuola, diritti e lavoro. Da questi temi ripartiremo noi giovani democratici. Andrea Orazzi di Vallefoglia è stato eletto segretario regionale a 24 anni, è di bottega di Vallefoglia, attualmente studia ingegneria civile all'Università di Bologna. Ora rivolge un ringraziamento a Silvio Gregorini e a tutto l'esecutivo uscente per il lavoro svolto e per lui saranno centrali, dice, la ricostruzione post-sisma e la parità di genere. Caldaie, ispezioni sospese mai dovuta alla manutenzione. Nessuno stop dunque alle manutenzioni delle caldaie. Quanto definito dall'ordinanza di giovedì firmata dal Presidente della Regione, non prevede il blocco di questo tipo di attività. Quindi le ispezioni sì sono sospese, ma la manutenzione, che poi è sinonimo di sicurezza, anche se tanto fastidiosa perché sembra quasi un balzello, sembra quasi una tassa, io mi rendo conto quando chiamano a casa per dire è ora di fare la manutenzione, quindi ti chiedono soldi, scattano i nervi perché la caldaia funziona, va bene, l'acqua calda c'è, però mi rendo conto, ma poi come si sa, le cose quando poi si bloccano, quando poi succedono i disastri, i drammi, si va sempre a rivedere la prevenzione. Ecco, questa è prevenzione. Baldelli da Linfa alla Fanurbino, invece il treno turistico per tutto l'anno, il sudalizio Ferrovia Valle del Metauro plauda all'iniziativa dell'assessore regionale, mentre sotto di taglio basso da Fermignano ha 81 anni l'impegno quotidiano di volontario. Mario Veschi, attivo nella protezione civile, dopo una vita passata e trascorsa all'estero. Andiamo sulla Val Metauro, perché la strage di Corinaldo sia un monito, giornata nazionale del divertimento sicuro, atto di indirizzo per la regione dalla giunta di Fano, nel nome di Benedetta, stiamo con i genitori. Val Cesano, il traffico da San Lorenzo, variante aperta tra un mese, il sindaco annuncia la conclusione dei lavori del secondo tratto della circonvalazione, mentre sotto quarantena alla scuola di infanzia di San Filippo, siamo a Mondavio, alla casa di riposo, il numero dei positivi sceso da 42 a 12. Senigallia, rischiamo un'emergenza, epidemia contro poveri, l'allarme della Caritas, continue richieste dei pasti caldi e strutture piene, con posti dimezzati per evitare il contagio, la situazione sta diventando ingestibile. Intanto c'è stato un arresto a Senigallia, perché un uomo, un giovane di 20 anni, regolare sul territorio, aveva organizzato un festino in un hotel di Senigallia. Questa persona è regolare, ma con precedenti penali, scrive il giornale, dovrà rispondere di resistenza pubblico ufficiale e lesioni. A richiedere l'intervento della polizia è stata una struttura ricettiva della città che nelle prime ore di mercoledì ha denunciato rumori molesti provenienti da una stanza. Gli argenti, quando sono arrivati sul posto, hanno trovato sei extracomunitari, ma uno si è dato la fuga, mentre tutti gli altri sono stati identificati. Ma nel gruppo di nigeriani c'era anche un giovane che ha iniziato ad inveire contro i poliziotti che in fatica lo hanno bloccato e denunciato per resistenza pubblico ufficiale. Da Senigallia ancora Corriere al laboratorio analisi sotto la pioggia e scatta il blitz di sindaco e assessore. Il comune chiede all'ospedale di allestire un tendone della protezione civile almeno per offrire un po' di riparo. Aggredisce due volte gli agenti in un giorno, arrestato un ventenne, si scatena prima in un hotel, poi durante una lite alla stazione ferroviaria. Piovono detriti dall'ex tribunale, pedoni a rischio, partono i lavori, Palazzo Ferroni Frati perde pezzi e calcinalci, ha approvato un intervento d'urgenza, lo vedete in questa fotografia. Poi da Urbino, Ateneo, primo in Italia per i fondi dell'edilizia. Il Ministero riconosce un finanziamento di 3,4 milioni di euro, i soldi andranno a integrare i lavori già programmati per 18. Siamo alle pagine sportive, la Vis, tante assenze, il pericolo Carpi, la squadra di Pokesci è stata una delle rivelazioni del campionato, da parte pesarese invece di Donato Conta e disponibili con Marchi che è in forse. E poi augurissimi al mitico maghetto Angelo Becchetti, ieri uno degli allenatori più amati, se non il più amato in assoluto della storia della Vis Pesero, ha compiuto 92 anni. E poi dalla fronte Granata, invece, contro ordine ad Arezzo non si gioca, titolo del Corriere. Alla fine la società Amaranto ha preferito giocarsi il bonus per Covid, il fanno deve restare a casa. Destro, l'allenatore dice, dispiace per questo ulteriore rinvio, perché così rischiamo di perdere il ritmo partita. Poi l'altra pagina, invece, della nostra rassegna stampa è per la VL. Guarito, Tyler Cain, pivò e uomo squadra della Carpegna Prosciutto, dice lui sono guarito, sono felice e pronto a giocare. Ma state attenti a questo virus. Lui racconta la sua quarantena, mai avuto sintomi e devo dire sono stato fortunato. La Carpegna Prosciutto si prepara alla sfida di domani a Pesero contro Reggio Emilia. Allora abbiamo ancora un po' di tempo, allora velocemente andiamo a rivedere per chi si fosse sintonizzato in questo momento. Oggi è sabato, magari qualche minuto in più nel letto ci si sta. Allora se vi siete sintonizzati adesso o siete con il cellulare in mano, vi rifaccio vedere velocemente le due prime pagine dei quotidiani. Così avete una panoramica generale delle notizie di oggi che troverete sul giornale inedicola. Allora, centropagina, oltraggio al dolore. Questa è la fotonotizia del resto del Cardino. Piazza dedicata al rapper della tragedia di Corinaldo. Stiamo parlando di Sfera e Basta, che vedete in questa fotografia, tiene in mano la targa della piazza di Cinisello a lui dedicata. Cinisello Balsamo, siamo nell'Interland milanese. La rabbia ovviamente dei parenti delle vittime della tragedia. Poi l'apertura con la dichiarazione di Acquaroli, la zona gialla, non è così lontana. Il Presidente vede rosa. Se l'indice di contagio dice prosegue basso, potremo essere promossi. E poi la mossa di Ricci. Il Comune restituisce la Tosap. Bar e ristoranti a Pesaro un po' adesso respirano. E restando sempre a Pesaro, l'ex AMGA bonifica sì, ma sul parco cala il sipario. L'annuncio dell'assessore. Poi diversi danni per la pioggia e il vento che sferzano tutta la costa. Alberi abbattuti. Chioschetto prende fuoco. E al mare la schiuma che sembra neve. Vesti troppo all'occidentale invece picchia la figlia. Abuso di metodi di correzione. Una madre che finisce nei guai. Lei però si difende. Dice in Pakistan i genitori fanno così. E poi l'Arezzo che, come abbiamo visto poco fa, chiede il rinvio. Salta allo spareggio per la salvezza. Parliamo di Alma Ioventus Fano. E poi la WL che slitta al dopocena a casi positivi permettendo. Andiamo a vedere adesso invece, a rivedere anzi, il Corriere Adriatico. Questa è la prima pagina. Il titolo d'apertura Fano, focolaio in cardiologia. Paziente contagia a 7 ricoverati. All'ingresso del Santa Croce, che è no Covid, era risultato negativo al tampone. Mentre apre il quinto modulo al Covid Hospital di Civitanova. L'indice RT scende a 1,17. Salta Martini dice però io non mi illudo. Intanto il commercio pronto a ripartire. L'obiettivo è per tutti, fissato al 3 di dicembre. Le misure dalla Regione, nuovi fondi per l'infrese in difficoltà. Un pacchetto Covid per aiutare le imprese che sono messe in ginocchio dalle misure restrittive. Nelle maglie dell'assestamento di bilancio. La Regione ha individuato tre direttrici per sostenere il tessuto produttivo marchigiano che passano da fondi europei ancora validi, contributi a fondo perduto per micro e piccole imprese e l'accesso al credito. Chiaramente stando così le cose, insomma questo tenendo conto che siamo a fine anno, insomma un po' hanno anche loro raccimolato quello che si poteva raccimolare. Poi speriamo nell'inizio del nuovo anno con nuovi fondi e nuovi aiuti. Poi per l'ex Tribunale invece a Pesaro scatta la denuncia firmata a Cogespar. Poi Ceriscioli che ora fa il tifo per la manifestazione Promuraglia in programma oggi alle 15. Sanità e ospedale da Fano, dieci domande sui punti più critici. Alberi abbattuti dal vento, il mare si mangia l'arenile, maltempo sulla costa da Pesaro a Marotta, vigili del fuoco chiamati a 30 interventi. Ieri l'inverno si è fatto sentire, il maltempo ha provocato il crollo di alberi da Pesaro a Marotta colpendo particolarmente Fano. I vigili del fuoco sono stati impegnati in una trentina di interventi, diversi danni, ma nessuna persona è rimasta ferita. La mareggiata ha portato via ampie zone di arenile. E sarà curioso andare a vedere in questi minuti, mentre stiamo trasmettendo com'è la situazione con l'arrivo della luce, del sole, insomma del chiarore, perché comunque il vento e il mare hanno continuato a soffiare, a spingersi verso la costa. Intanto sulla strage di Corinaldo Fano chiede la giornata della memoria, abbiamo visto, per l'8 di dicembre. Ed è tutto per la nostra rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con Sette per Occhio, all'interno del quale, magazine, vi faremo vedere anche un resoconto della manifestazione che ci sarà oggi alle 15, quella di cui abbiamo parlato abbondantemente, dal presidio di Muraglia, davanti all'ospedale di Muraglia. Vi daremo un resoconto e queste poi e tante altre notizie, nel caso in cui ce ne saranno, lo troverete comunque in apertura alle 20.30. Grazie per essere stati con noi, a voi tutti l'augurio di trascorrere un buon fine settimana. Arrivederci.